Musica Buongiorno gentili telespettatori e benvenuti alla prima edizione quotidiana del nostro telegiornale Drammatica notizia di cronaca in apertura Le ricerche di Michele Sensini scomparso da martedì pomeriggio Si sono tragicamente concluse ieri con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo In fondo ad un canalone a San Lorenzo al lago nei pressi di Fiastra Il 47enne era uscito in bici come solito fare ed era un'esperta guida escursionistica A lanciare l'allarme è stata la compagna che non riusciva più a mettersi in contatto con lui Sino alla macabra scoperta avvenuta attorno alle 20.45 di mercoledì Un noto locale nel centro storico di Macerata, sito in via Gramsci, è stato chiuso per tre mesi I fatti risalgono al giugno del 2020 quando a seguito di un controllo di carabinieri e polizia Sarebbero state servite bevande risultate alcoliche ad alcuni minorenni C'è stato poi un lungo iter giudiziario che si è concluso in Cassazione con la Suprema Corte Che ha anche inflitto una multa di 600 euro saracinesche abbassate da ieri dopo la notifica del provvedimento Ed ancora la siccità in primo piano dopo la riunione di ieri in Regione Invito ai comuni ad emettere le cosiddette ordinanze antispreco I dettagli Inviteremo tutti i comuni delle Marche in maniera generalizzata ad emettere ordinanze di divieto di consumo di acqua Per attività non essenziali quali lavaggi auto, riempimento di piscine private o irrigazione di prati e giardini Ordinanze da emanare immediatamente su cui sarà necessario un forte controllo per l'osservanza degli obblighi Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi Durante la riunione di ieri del Comitato Paritetico di Protezione Civile Per la siccità c'è una criticità pressoché uniforme in tutto il territorio delle Marche Con punte però nell'Ascolano a causa delle deviazioni delle sorgenti per il sisma del 2016 E nel Pesarese in particolare per l'approvvigionamento di acqua potabile a Pesaro e Fano Queste città prelevano dal fiume Metauro che dall'invaso di Tavernelle di Colle al Metauro E ad oggi a meno del 50% delle sue potenzialità Per i prossimi anni sarà inoltre necessaria una programmazione per un maggior immagazzinamento dell'acqua piovana Durante l'inverno per sopperire in qualche misura la carenza idrica Oggi infine si terrà un incontro a Pesaro tra regione e provincia con Enel e Green Power Per attivare da subito la pulizia degli invasi lungo il Metauro iniziando da quello del furlo Ancora brevi di cronaca Un grave incidente avvenuto in un frantoio di Mogliano nel Maceratese Una 67enne stava aiutando nello scarico del grano Quando, secondo una prima ricostruzione, gli ingranaggi rotanti posti sulla parte inferiore del motore del rimorchio Gli hanno devastato una mano L'uomo ha subito una subamputazione al dorso ed è stato elitrasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Torrette Ancora una lite per motivi affettivi e di gelosia La scorsa notte invia a circonvallazione ad Ancona tra due soggetti pregiudicati a entrambi del posto Un uomo ed una donna I due avevano organizzato una serata tra amici ma poi, complice l'eccesso di alcol, gli animi si sono accesi Le volanti intervenute hanno sedato gli animi ma per fortuna nessuna conseguenza in termini di lesioni o altro E cambiamo argomento ad Ascoli Nuova regolamentazione della circolazione in corso 33S in piazza Santa Maria per i lavori di riqualificazione Un'estate di lavori e di cantieri Il sindaco Fioravanti chiede pazienza per avere presto le vie del centro storico più belle e sicure Lo sentiamo al microfono di Mario Larocca Questa strada è stata fatta 38 anni fa, poi non è stata più fatta Ovviamente per fare l'arteria principale ci vuole un grande lavoro di squadra Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione che abbiamo E ci vuole una grande collaborazione di tutti I cittadini, i commercianti, i albergatori, anche i turisti stessi E quindi noi abbiamo avuto il coraggio di mettere in mano a via Trieste Dobbiamo continuare ad avere coraggio E dobbiamo continuare a lavorare sotto traccia, non con grandi proclami E noi abbiamo iniziato già un anno e mezzo fa Quindi abbiamo fatto già tutti i lavori qui in via Trieste Senza chiudere mai un giorno dei sottoservizi Quindi acqua, gas sulla fogna E poi abbiamo fatto 15 saggi in via Trieste Di profondità di 3 metri Per la soprintendenza E quindi abbiamo superato anche questo scoglio importante Adesso stiamo mettendo mano alla paventazione Verrà un progetto straordinario Quindi i marciapiedi in travertino E la pietra lavica per la paventazione Lo spessore della pietra è 12 centimetri Abbiamo utilizzato una pietra molto spessa Proprio per cercare anche di garantire la sicurezza E garantire anche la sostenibilità della pietra Perché ovviamente qui è una via di passaggio Anche per cercare di farla durare più a lungo possibile Quindi con molta calma e con molta pazienza Ci saranno molti disagi Quindi ogni settimana dobbiamo rivedere la viabilità Perché qui il progetto è indiviso in 6 step Oggi sto con il tecnico proprio qui a fare un sopralluogo A cercare di capire come progressivamente possiamo cambiare cantiere Quindi sarà diviso in 6 step Partendo dal basso e salendo verso Piazza Ringo E quindi settimanalmente dobbiamo rivedere la viabilità Ovviamente c'è una grande attesa Per rivedere questa arteria nuova È un progetto bellissimo Anche di illuminazione con i vecchi lampadari È molto bello Però ci vuole paziente e determinazione come dicevo Delegazioni dei sindacati e dei dipendenti Whirlpool In presidio l'8 luglio sotto le prefetture di Ancone d'Ascoli Piceno E la mobilitazione promossa sui territori dal coordinamento sindacale Della multinazionale americana A seguito della notizia della vendita di tutto l'asset della Russia Alla turca Arselik È necessario l'intervento del governo Per garantire il futuro della multinazionale in Italia e in Europa Ribadiscono i rappresentanti delle segreterie sindacali Per capire quelle che sono le intenzioni della multinazionale americana Nel nostro paese Per le parti sociali è necessario che l'azienda presente un piano industriale Per i prossimi anni A garanzia dei siti italiani dell'occupazione E l'intervento del governo è determinante E lo abbiamo anticipato ieri John Francis McCart Professore di letteratura inglese Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici È il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Macerata Succedendo a Francesco Dornato È il primo docente non italiana a guidare l'Ateneo Fondato nel 1290 L'elezione al primo turno Quando ha ottenuto 207 preferenze Contro le 158 della sfidante Francesca Spigarelli È stato presentato in regione il progetto Il Suino della Marca Per vincere la sfida della zootecnia sostenibile Emanuela Cermignani ha seguito per noi la conferenza stampa Presso la Sala Raffaella della Regione Marche La presentazione della nascita di un animale dal patrimonio genetico unico Come il Suino della Marca È un evento storico per il settore agroalimentale locale E una risorsa di certo qualificante Per il mercato nazionale e internazionale Per il Vice Presidente dell'Aggiunta regionale Nonché Assessore all'Agricoltura Mirko Carloni Questo progetto significa molto per promuovere le marche Dal rispetto del benessere per l'etica sull'animale Alla tracciabilità del prodotto Qualità, territorio recupero genetico della specie Ma soprattutto promuovere la Regione attraverso un nuovo marchio Esattamente come ha fatto la Spagna con l'Iberico de Patanegra Io sono molto felice perché oggi tengo a battesimo Una delle cose di cui gli uffici mi avevano informato Appena diventato Assessore Che fosse una delle grandi perdite che noi avevamo davanti Perché per anni c'era stato un lavoro Anche con finanziamento pubblico Di ricerca sulla genetica Per ricreare una razza autoctona dal pelo rosso Con delle condizioni anche genetiche molto eccellenti E con anche una funzione antiossidante Molto importante delle sue carni Che stava perdendosi Perché l'evoluzione di questo prodotto Andava svanendosi e rischiava di essere travolto E quindi finiva la razza del suoino della marca Tra le varie cose che ho fatto in questi mesi Cercando di far incontrare potenziali interessati a questa valorizzazione Perché la Regione ha un interesse specifico Questo può essere un prodotto identitario Di eccellenza perché entrerà in un livello di qualità molto alto E farà parlare delle marche Quindi è stato un connubio perfetto Dopo vari tentativi Aver trovato un imprenditore visionario Come Emiliano Baldi Che ha creduto in questa operazione Con una partnership di un produttore della Lombardia Molto esperto della materia Abbinato all'Università di Camerino A quella di Ancona Con l'assistenza tecnica dell'Assam Tutto questo ha messo in sicurezza la possibile estinzione di una razza autotona Questo nuovo suoino della marca verrà lavorato e commercializzato Dall'importante realtà aziendale Baldi SRL Sostenendo appunto nuove tendenze sempre più importanti di consumo Che richiedono filiere corte, metodi di allevamento e produzione naturale chilometro zero Anche sostenere un sistema di allevamento in quelle zone terremotate Per recuperare i territori pedo-appenninici Che economicamente sono stati messi a dura prova Sono due i macro trend che noi pensiamo di aver intercettato Nei prossimi anni nel consumo delle carni Uno è l'opposto del consumo delle carni Ovvero la sostituzione delle carni con prodotti che sono denominati plant-based Che non è questo il contesto con il quale ci muoviamo L'altro che è connesso a una riduzione tendenziale del consumo delle carni Riguarda lo spostamento del gradimento delle persone verso carni di maggior qualità E che assecondino appagamento sia del gusto sia di altre esigenze Che sono di tipo etico o emotivo Caratterizzazioni molto forti Il suino della marca ci interessa, ci è piaciuto perché risponde a questo secondo trend Perché intanto offre delle carni eccellenti per le caratteristiche stesse Che sono dell'allevamento, che sono della genetica Ed ha delle ricadute sul territorio nostro Marchigiano in primo luogo Territorio che negli ultimi anni ha avuto fenomeni di grande industrializzazione e di difficoltà Delle ricadute molto interessanti Perché lo stato brado permette Caratteristica dell'allevamento di questo suino Permette di ripopolare quei territori svantaggiati Verso i quali l'attenzione della regione sta imprestata negli ultimi anni molto forte Per riportare persone all'allevamento Per evitare lo spopolamento di quelle zone Che è tra l'altro accelerato dai problemi del terremoto Che è successo pochi anni fa sostanzialmente Quindi questo progetto ha tutte le caratteristiche che sono coerenti Con il marchio Baldi e con gli sforzi che l'azienda cerca di fare Ma dà una concretezza di quelle accezioni che si possono raccontare Di una qualità che non è un nome, un claim messo lì Ma proprio è descrittivo E questo permette anche di assecondare Quelle che sono gli orientamenti Che anche vengono dalla comunità europea Ma che in realtà sono l'espressione del sentimento delle persone Che sono tutti quei claim verso il benessere degli animali Verso il chilometro zero Verso grandi attinenze col territorio Verso quei concetti che si denominano from farm to fork Quindi dall'allevamento sostanzialmente alla tavola Che non sono soltanto dei modi di marketing di dire Ma sono molto concreti Cinque progetti del piano complementare al PNRR Nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Per un totale di 2.087.000 euro Depositati dall'ufficio tecnico del comune di Fabriano Ad annunciarlo proprio il neosindaco Daniela Gergo E marca e multiservizi acquisisce Macero Maceratese Lo comunica il gruppo ERA Grazie all'acquisizione del 70% della storica società marchigiana La controllata del gruppo ERA prevede a regime Un incremento del 10% del fatturato E del 5% del margine operativo lordo Tempo di vacanze Sono sempre di più coloro che non vogliono separarsi Dai propri amici a quattro zampe A Fano e Pesero spazi attrezzati per cani e padroni Camilla Cataldo Ampio spazio per i cani che scorrazzano in libertà Qui ad Animalido A Fano Una spiaggia super organizzata Per i nostri amici a quattro zampe Grande sostegno e grande sollievo per loro ma anche per i padroni L'impegno è grande e il risultato non è da meno Nelle Marche e in tutta Italia sono poche le strutture con le stesse specificità e organizzazione La Dog Beach in spiaggia libera di Baia Flaminia amplia i servizi E si presenta rinnovata nella sua terza estate di fila A Baia Flaminia a Pesero aumenta le zone d'ombra con più ombrelloni e lettini, ciotole, luoghi freschi e pulizia Ci saranno corsi tenuti da educatori cinofili Giovanni Dallago è il gestore di entrambi gli impianti Siamo proprio in dirittura d'arrivo con A Baia Flaminia Quindi la novità diciamo Per Pesero è la riapertura Della spiaggia per animali Che diciamo che sulla base Del successo degli anni scorsi Si ripropone anche quest'anno Con una formula un pochino più Strutturata anche per noi Umani A Fano siamo la sesta stagione È diventato comunque da un po' di anni Una meta turistica Di molti appassionati E molte persone che hanno gli animali Scegliono la città proprio per questa struttura A Baia Flaminia c'è anche un food truck temporaneo A Baia Flaminia ci sarà una bike cargo Gestita da Michela Barulli Che è la socia diciamo in questa avventura E di Farina del Mio Sacco Quindi avremo delle proposte diciamo Inogastronomiche da scoprire Tutte da scoprire Quanti animali ospitate solitamente E arrivano da tutta la provincia? Arrivano dalla provincia Ma anche da tutta Italia Ma soprattutto in mezzo alla settimana Anche da fuori Abbiamo riscontrato anche quest'anno Molti turisti magari di passaggio Che si fermano qui Proprio perché anche Fano Ci hanno messo fra le dieci cose Più belle da vedere della città Gli stabilimenti sono separati e in sicurezza? C'è tutta una gestione degli accessi Per i cani All'arrivo scegliamo il posto più indicato Per ogni tipologia di cane E per far sì che questa scelta È molto importante Quindi perdiamo un minuto o due all'ingresso E indichiamo la posizione più adatta In base alla tipologia del cane È una cosa abbastanza complicata Però è molto importante Per il benessere sia del padrone Che si rilassa Sia del cane che non ha troppe sollecitazioni È importante questa attenzione per i cani Anche in estate L'invito è sempre quello a non abbandonarli? Siamo nati proprio per queste problematiche Perché comunque l'estate era la stagione dell'abbandono E grazie a tutte queste strutture Ma grazie anche alla collaborazione con alberghi e ristoranti Adesso è possibile portarsi il proprio animale domestico in vacanza E quindi avere tutti dei servizi studiati per loro E passare una vacanza insieme La tua è una passione atavica Come è nata questa idea? Da un'esigenza perché avendo il cane Amando il mare non potevo portarlo da nessuna parte Allora dopo anni siamo riusciti Insieme prima al comune di Fano Ma poi anche a quello di Pesaro A proseguire in questa avventura Che adesso è diventata Diciamo a Sufano Un fiore all'occhiello della città Siccità, caldo, intenso e torrido E vediamo a tal proposito le previsioni meteo Per la giornata di venerdì, primo luglio Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trapi Meteo La giornata di venerdì vedrà il passaggio di una perturbazione oltre Alpe Sugli stati centrosettentrionali dell'Alecchio continente Con dei piovaschi, qualche acquazzone e anche clima ventoso Mentre sull'Italia permarranno condizioni anticicloniche Alta pressione africana In linea del dettaglio Zoom precipitazioni Possiamo notare come tra il pomeriggio e la serata Vi sarà l'origine di qualche accenno instabile Di rovesci temporali su Alpi e Prealpi In parziale estensione all'elemento Fesione pianeggianti anche di Veneto e Fili Venezia Giulia Tutto tranquillo altrove E difatti la prossima grafica ci fa vedere come al centro-sud Sull'Emilia Romagna ci sarà il sole e la grande canicola Valori in queste aree oltre i 33-34 gradi Dettagli ulteriori approfondimenti Scaricando l'app gratuita di Trapi Meteo E con questo è davvero tutto Per la prima edizione quotidiana del nostro telegiornale Grazie per la cortesa attenzione Appuntamento alle 19.15 e 20.30 Grazie per la visione Grazie per la visione